Si chiama Match 4.0 Digital Innovation Ab Abruzzo, un ponte tra impresa, ricerca e finanza. Il progetto presentato dall'assessorato regionale alle attività produttive e che si avverrà anche del contributo di Confindustria, Feder Manager Abruzzo Molise e dell'Agenzia Speciale delle Camere di Commercio. Si tratta di un progetto che vuole vedere il prodotto Abruzzo primeggiare in Italia ed in Europa. È un processo di digitalizzazione che oramai è in atto e in corso ed è l'unico strumento con cui l'Europa, l'Italia e la Regione Abruzzo può difendersi rispetto ad un'economia mondiale che chiaramente offre una concorrenza su cui noi difficilmente possiamo competere. Quindi la velocizzazione delle informazioni, degli strumenti necessari per la produzione serve proprio in questo senso. Va riscritta l'industria 4.0 proprio verso queste direzioni. L'Europa scommette su questo, ci sono 9 miliardi e 200 milioni che vengono messi all'interno dei fondi strutturali a cui noi possiamo accedere. Stiamo scrivendo la nuova programmazione 21-27, dobbiamo essere bravi e capaci di rivolgersi per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca non solo alle grandi aziende che abbiamo in Abruzzo ma anche a quel tessuto industriale fatto dalle piccole e medie aziende che sono peraltro l'ossatura più importante che invece oggi non partecipano a questo processo. È un processo di innovazione a cui siamo particolarmente attenzionati e quindi con Confindustria e con le altre organizzazioni che stanno lavorando su questo siamo particolarmente vicini.